come dire, evidenziare quanto questo gruppo di volontari... Dal piano neve al rischio sismico fino a quello idrogeologico è stato annunciato il nuovo piano di emergenza comunale elaborato dal gruppo di Pesaro della protezione civile suddiviso in sei aree di rischio che sono inquinamento costiero rischio idrogeologico e sismico, neve, incendi boschivi e maremoto il piano che individua 55 aree di emergenza in tutto il comprensorio comunale è stato presentato lo scorso sabato dal geologo Luca Mosca e sarà poi comunicato in maniera schematica ai quartieri della città da oggi ha commentato David Piccinini, responsabile regionale della protezione civile Pesaro può garantire un alto livello di sicurezza grazie a un piano come quello presentato corposo, dettagliato e facilmente comprensibile l'annuncio del piano è avvenuto nei locali di Via Lombardia 7 in zona Villa San Martino, la nuova casa della protezione civile di Pesaro in questa nuova sede ha spiegato Ugo Schiaratura coordinatore tecnico del gruppo comunale di Pesaro c'è tutto quello che ci serve se abbiamo molto spazio esterno possiamo fare anche addestramento perché la protezione civile ha bisogno anche di fare addestramento perché noi dobbiamo essere sempre pronti quando interveniamo sulle cose che ci chiamano e ovviamente non veniamo, non siamo professionisti del soccorso ma siamo gente che ha fatto tutti i tipi di lavoro e noi intanto ci raddestriamo con le pompe, con le motoseglie tutto quello che può servire per dare una mano alla gente inoltre la nuova sede diventerà anche Drive Tamponi l'Asura ha visionato la location e la giudicata favorevolmente ha spiegato Schiaratura primo di dicembre dovrebbero partire appunto i tamponi perché prima erano al centro operativo poi ad agosto sono stati spostati a Fano adesso siccome aumenta il numero lo riportano a Pesaro e lo riportiamo all'interno della nostra sede la nuova sede è stata inaugurata alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi di alcune personalità della regione e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che rivolgendosi alla protezione civile ha affermato davanti all'emergenza vi siete moltiplicati e questo è un grande messaggio per una società più unita, giusta e solidale soddisfatto anche l'assessore all'operatività Enzo Belloni il punto di forza ha spiegato sono i nostri 150 volontari che hanno dato e continuano a dare la loro disponibilità abbiamo una richiesta continua di iscrizione tant'è che l'obiettivo è quello di abbassare il limite minimo di età quindi di portarlo a 16 anni come succede in altre situazioni quindi sarà un modo anche per educare i ragazzi al civismo devo dire che i volontari in questi mesi poco fortunati per il nostro paese hanno dato cuore, energia e tanta voglia di fare e hanno dato risposte importanti alle esigenze dei cittadini dal presidio dei punti vaccini ai tamponi al consegnare la spesa a casa si sono resi disponibili dalle feste alle situazioni un pochino più delicate quindi è un grazie questo qui vuole essere un momento non solo per presentare il piano di protezione civile comunale ma anche per ringraziare i tanti volontari che danno una mano a tutta la comunità